Benvenuti in ISTAT, l'ente di ricerca che si occupa di produrre la statistica ufficiale e, in particolare, ha il compito di svolgere i censimenti. Ma cosa sono i censimenti e, soprattutto, a che cosa serve la statistica? Lo scopriremo attraverso il censimento permanente sui banchi di scuola. Ad accompagnarci in questo viaggio, immancabile, il nostro amico POP. Ciao Francesca, eccomi qua. È tutto pronto. Materiali didattici, percorsi guidati per conoscere le banche dati di ISTAT, infografiche, video e tanti giochi. Benissimo POP e non dimentichiamo la competizione statistica. Tra quantità e creatività ci sfideremo con allegria. Si parte Francesca! Arrivo POP! Allora, venite con noi? Vi aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!